Cimiteri cittadini tirati a lucido per la commemorazione dei difunti per il 2 novembre. Le due cooperative che curano la manutenzione di servizi all'interno dei cimiteri cittadini hanno in questi giorni intensificato le operazioni per mettere in ordine i vialetti, le uole e rasare l'erba. Gli operatori sono passati da 6 a 11. Per presentare ai visitatori il giusto decoro che questi luoghi impongono le attenzioni non si sono solo concentrate nel cimitero centrale ed in quello dell'Urivo ma anche in quei piccoli cimiteri decentrali rurali, Rosciano, Caminate, Ferretto e Carignano. Nel 2017 gli ultimi dati disponibili sono state effettuate 644 funerali con un incremento del 4% frutto probabilmente del progressivo invecchiamento della popolazione che si discosta di molto però da quelle fisiologico 1% che è invece la media annua. 95 funerali dei quali sono poi terminati con la cremazione della salma un dato in forte espansione anche per effetto del nuovo impianto crematorio realizzato al cimitero dell'Ulivo. Un investimento molto importante abbiamo un sistema un diciamo un impianto ad altissima qualità nuovo moderno e con che lavora abbastanza bene moltissimo anche. Al cimitero dell'Ulivo sono previsti altresì lavori strutturali oltre a quelli di manutenzione esteroordinaria effettuati sino ad ora. Continueremo gli investimenti che inizieranno entro il 2018 e realizzeremo dei nuovi bagni intermedi e come sapete tutti al cimitero dell'Ulivo i bagni sono in cima alla salita è una collina quindi e sono scomodi allora abbiamo pensato di realizzare anche dei servizi igienici diciamo a metà. L'altro investimento è quello di un ricovero mezzo e un magazzino interno che servono a noi ma anche quello di creare delle aree ad hoc per i servizi cimiteriali che in questo momento mancano. Nel report l'assessore riserva considerazioni anche su di una situazione annosa che è stata di recente evidenziata anche da un nostro servizio e che riguarda il deflusso delle acque piovane nei cemiteri di Caminate e Carignano. Manca una rete di smaltimento delle acque superficiali e dunque ovviamente servono degli investimenti importanti soprattutto un punto dove recapitare le acque che vengono raccolte in questi piccoli cimiteri. Abbiamo già previsto dei lavori a corredo diciamo integrativi rispetto a quelli che abbiamo già messo in campo che sono per il cimitero di Caminate dove dovremo portare l'acqua nel fosso lì vicino. Ovviamente stiamo pianificando anche i lavori al cimitero di Carignano. Purtroppo il problema ci è noto, è un problema storico che c'è sempre stato. Cercheremo di camminare, abbiamo già stanziato i soldi, al cimitero di Carignano lo faremo a breve.